Cari amici di Radiofonica.com, siamo qui oggi con Chiara Vigliucci della Ternana Calcio Femminile. Ciao Chiara! Ciao a tutti! Ciao! Ascolta Chiara, facci una tua presentazione. Allora io ho iniziato all'età di 7 anni a giocare a calcio, ho iniziato con i maschi del prosinone, poi sono passata all'età di 14 anni con una squadra femminile, la Roma Calcio Femminile. Ho fatto due anni lì e poi sono passata all'ES Roma, il primo anno proprio che è stata creata l'ES Roma. Ho iniziato con la primavera, quattro anni, e per poi iniziare lo scorso anno sono passata in Serie A con la Roma. Poi a dicembre sono andata in prestito alla Lazio. Qual è il tuo ruolo, quindi? Nasco con un terzino, però faccio anche mezza alla centrocampista esterno. mi adatto. Ecco, perfetto. Quindi tu hai sempre cambiato il tuo ruolo nel tuo percorso calcistico? Sì. Ok. Sì, sì. Bene. Allora, alla quinta giornata di campionato la Ternano ha giocato contro il Napoli al piccolo Cercola, no? Il risultato della partita è 4-0. Ascolta, c'è un momento, un'azione che ti ha colpito particolarmente dell'incontro? Io ho giocato solo un tempo perché non stavo molto bene fisicamente, quindi diciamo che non ho, non mi sono proprio goduta la partita perché non sono riuscita, però sul secondo tempo, sul rigore, lì che si è, cioè a parte che l'abbiamo sbagliato, però... Perfetto. E invece ti volevo chiedere, siamo anche vicini a Coppa Italia, giusto? La partita con il Milan che si svolgerà proprio a casa, eh? Sì. Allo stadio Moreno Cubbiotti. Sì, speriamo... Come ti stai preparando all'evento? Ora, questa settimana, stiamo pensando prima alla partita di sabato, poi sicuramente penseremo anche a quella, che sarà comunque una partita importante, ma adesso pensiamo alla partita di sabato. Perfetto. E ascolta, quindi tu prima ci hai detto un po', c'è un po' raccontato, diciamo, come nasce la tua esperienza calcistica, ma quindi si tratta di una vera e propria passione? Sì, sì, perché io tutto il mio tempo a questo sport ho sempre dato tutto e spero che, cioè voglio che diventi un lavoro per me. Quindi tu, oltre il calcio, come ti vieni impegnata? Ma nello studio no, perché non fa molto per me, quindi adesso è solo quello. Ma il calcio sì, quindi va bene così, ci piace, ci piace lo stesso. Ecco, perché tu invece da dove vieni? Io sono di Cassino, però per cinque anni ho vissuto a Roma. Eh, certo, perché tu prima infatti stavi con la Roma e poi sei venuta con la Ternana. Sì, alla Ternana. Esatto, quindi è stata per te un'esperienza diversa o comunque pensi che invece sia, insomma, stata da subito un'ottima scelta? No, un'esperienza diversa perché comunque diciamo che era il mio comfort stare lì a Roma, però sicuramente so di aver fatto la scelta giusta qui a la Ternana perché ho tanta voglia di fare questo campionato e di crescere. Certo, di crescere, eh, di crescere. Certo, un'esperienza proprio calcistica. Sì, sì, di calcistica. Anche perché ti ho vista e comunque ti faccio tanti complimenti, veramente sei molto molto brava. Gli altri ragazzi, d'altronde, si vede che ci mettete anima, passione, corpo, tutto. E quindi, tra l'altro tu con il Trento hai fatto anche il terzo gol, se non sbaglio. Sì. Esatto. Ti va di raccontarci un po' quell'azione. Ah, ma... No, sinceramente io mi sono ritrovata lì, questa palla che questa mia compagna mi ha dato, io ho solo pensato a calciare in porta e... E a siglare il terzo gol, e a vincere contro il Trento, ragazzi, a vincere contro il Trento. Senti, e qual è la tua più grande ambizione quindi? Cioè, per adesso è calcio, però anche in futuro, cioè nell'ambito degli animali, perché mi piace tanto anche un cane, quindi... Bello, 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 quindi ti vedremo vedere in aria. Forse, non lo so, vedremo, vediamo. Sì, piacerebbe lavorare in quell'ambito comunque. Bene, bene. Allora, Chiara, noi ti ringraziamo tantissimo per averci dedicato questi minuti di, insomma, chiacchierata. Spero che ti sei trovata bene e che magari faremo anche altre interviste, perché a noi ci piacerebbe tantissimo averti un'altra volta ospite. e ovviamente ti seguiremo anche nelle prossime partite, quindi in gamba, forza, coraggio, e intanto un grande in bocca al lupo per la prossima, che è con l'Ellas Verona, se non sbaglio. Esatto, quindi un grande in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, Chiara. Grazie, alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.